Omegna esclusa dalla rappresentanza dei sindaci dell'ASL VCO. Il verdetto ha scatenato le polemiche sollevate dai primi cittadini di centrodestra, infuriati con i colleghi del Partito Democratico e più in generale del centrosinistra, colpevoli, ha detta loro, di non aver rispettato le istruzioni del segretario provinciale del PD, Giuseppe Grieco. L'eliminazione del terzo comune più importante dell'ASL VCO dalla rappresentanza ha caratterizzato l'assemblea di ieri. Prima del caos finale è stato votato all'unanimità presidente della conferenza dei sindaci dell'ASL VCO Gianni Morandi, primo cittadino di Gravellona Toce. Dopodiché si è passati alle elezioni dei componenti della rappresentanza. Ogni sindaco presente ha potuto esprimere due preferenze diverse sulla propria scheda. A sua volta ogni comune ha avuto un peso ponderato nella votazione in base al numero di consiglieri all'interno del proprio consiglio comunale. Rapidamente si è arrivati allo spoglio. A sorpresa con 367 voti si è imposto Giacomo Archetti di Vignone, seguito da Silvia Marchionini di Verbagna, Lucio Pizzi di Domodossola e Alberto Preioni di Borgo Mezzavalle. I quattro hanno distanziato gli altri sindaci entrando di diritto nella rappresentanza. Primo degli esclusi con 180 voti Marco Zanoletti di Druogno, al sesto posto per voti presi Paolo Marchioni Diomegna. E proprio la defezione del capoluogo Cusiano ha alzato un polverone in sala. I più accesi sono risultati gli altri amministratori del Cusio, defraudati del loro rappresentante più importante. Del Partito Democratico non ci si può fidare, ha chiosato Paolo Marchesa Grandi, sindaco di Loreglia in Vallestrona. Attraverso il loro segretario provinciale ci avevano detto di votare Morandi, presidente della conferenza. Poi loro avrebbero sostenuto le candidature di Marchionini e Marchioni. In realtà non è andata così e ci troviamo fregati con Omegna esclusa. È chiaro che la direttiva di rappresentare i tre comuni più importanti non è stata rispettata, ha detto in chiusura di assemblea il neopresidente della conferenza Morandi. Ogni amministratore ha fatto la sua scelta. Con o senza Omegna, comunque torna dopo tanti mesi la rappresentanza, che era decaduta quando Aide Mellano, allora sindaco di Omegna e presidente della conferenza dei sindaci dell'ASL-VCO, si era dimessa.